Salve, salve da Marco Calabrò. Guardiamo questa cucina, è una cucina Claudia di Lube, in due colori, è un'essenza frassino. Guardate che bella, che particolare è la maniglia. Sta in offerta da Mobile Biagio all'Ariano. Vediamo, si tratta di una parete dritta più l'isola. Guardate l'isola come è stata. Quindi facilmente inseribile in qualsiasi ambiente. Il forno, lo vediamo, sta sulla colonna, mentre la cucina, come vediamo, è in cinque fuochi. La troviamo in offerta da Mobile Biagio. Sto allegando una fotografia con le caratteristiche del prodotto, le misure e il prezzo in offerta. Così una Claudia di Lube in offerta.